Siamo molto preoccupati su questi eventi che ahimè nell'anno 2024 sono sempre più frequenti e che coinvolgono personale sanitario ma anche personale soccorritore, quindi volontari, spesso giovani ragazzi che svolgono un servizio che è fondamentale per la nostra, per tutta la cittadinanza. Sono state oltre 100 le aggressioni al personale sanitario nel 2024 in tutta la ASL sud-est, Arezzo Siena e Grosseto. L'ultima in ordine di tempo, la sera del 23 ottobre in Val D'Arno, vittime due volontarie della misericordia di Cavriglia, poco più che ventenni, colpite con un calcio e con un pugno da una persona che, soccorsa per un codice minore, aveva dato in escandescenze. L'hanno superato, hanno superato perché comunque sono preparate professionalmente a servizi anche più difficili. Non siamo mai preparati alle aggressioni perché comunque non ci capita spesso, fortunatamente, anche se nell'ambito sanitario sono sempre più frequenti. Loro stanno bene, lo sentite ieri sera, sono tranquille, hanno continuato e vogliono continuare ancora nel servizio. Questo chiaramente, fortunatamente, non ha leso quello che è lo spirito del volontariato. Il problema è soprattutto culturale, difficile la soluzione, ne sono convinti in molti, finché la parte politica e gestionale non cambierà le regole. Di certo i soccorritori non possono esimersi dal prestare i loro servizi a chi ne fa richiesta, componendo il 112, un settore, quello dell'emergenza urgenza, che crollerebbe senza l'apporto delle pubbliche assistenze. Assolutamente, io credo che l'informazione al cittadino, è per questo che segnaliamo sempre, non solo sul portale della Regione Toscana per quanto riguarda le aggressioni, ma poi anche informiamo i cittadini di quello che sta avvenendo, perché siano consapevoli che se manca l'educazione e il rispetto nella nostra società, indipendentemente dal servizio e dall'evenienza che in quel momento si sta verificando, il nostro sistema sociale crolla. Il 118 ne è un esempio, perché per alcuni, per molti è un lavoro, ma per tanti, per tanti è un'azione di solidarietà. E quindi questo è un messaggio che è troppo importante per poterlo gettare via a causa proprio di qualche squilibrato, ma anche, come diciamo noi in Toscana, di qualche strullo.